Dopo l'esaltante vittoria al Pireo e l'avvenuta qualificazione agli ottavi di Europa League, l'Atalanta si rituffa in campionato affrontando in casa la Sampdoria in chiusura della 27esima giornata. Partita in posticipo di lunedì che archivia il mese di febbraio, con calcio d'inizio ritardato di 5 minuti alle 20.50 in segno di protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina. Solo una vittoria, quella ottenuta a Udine nelle ultime 8 gare per l'Atalanta, che dopo aver perso l'imbattibilità esterna nella contestata partita di Firenze, vuole tornare al successo al Gevi Stadium per mantenere il passo della Juventus, che occupa il quarto posto che vale l'accesso alla Champions. La Sampdoria invece ha perso le ultime tre trasferte in campionato senza riuscire a segnare. È la centesima sfida in Serie A tra Atalanta e Sampdoria, con i bergamaschi che hanno vinto quattro delle ultime sei sfide. Gasperini, espulso a Firenze, seguirà la partita dalla tribuna. In panchina ci sarà Tullio Gritti. All'emergenza in attacco si somma quella in difesa. La squalifica di Demiral e Jim City costringe a trovare soluzioni alternative. Palomino ha praticamente recuperato dal problema al flessore, ma il suo impiego è oggetto di valutazione. Accanto a Toloi e Scalvini potrebbe giocare Derun in caso di difesa a tre, oppure Atebor e Pezzella che davanti a Musso si disporranno a quattro. In questo caso, con Derun e Freuler in mediana, potrebbe essere riproposto Pasalic-Falso 9, con la tre quarti formata da Malinowski, Kupminers e Bogat. Tra i due oriani assenti per squalifica, Kandreva e Berezinski. Nel 4-3-1-2 ci sarà Ekdal in cabina di regia. Possibile il rientro di Sensi alle spalle di Quagliarella e Caputo, ma non è escluso che l'allenatore Giampaolo proponga il 3-5-1-1. Abbiamo detto dei cinque minuti di ritardo in segno di solidarietà per l'Ucraina, solidarietà che è immaginabile il pubblico del Gevi Stadium non mancherà di esprimere, soprattutto dopo il messaggio lanciato da Ruslan Malinowski ad Atenea.